Ciao a tutti, mio nome è Angelo Inverardi, sono in negozio del towing device per più di 30 anni. Stiamo presentando l'eva automatico trailer cappellino di JK Series per la prima volta in IAA in Hannover questo anno. Per molti anni abbiamo lavorato con un team di esperti per designare e produrre soluzioni innovativi. Il progetto del progetto è di sviluppare un cappellino che risponde alla necessità dei mercati più importanti. Il risultato è il cappellino di JK Series con molte funzionali aiutari. Compact, modulare, con la durabilità maximale. Il risultato è la più grande scelta tra i cappellini e il grado, tra tutte le soluzioni disponibili sul mercato. Il cappellino di cappellino ha elementi separati, che ruotano indipendentemente. Un'altra avvantaggio dell'eva cappellino è il ruotamento che aumenta la vita per ridurre il costo di mantenimento. Tutti i punti che ho menzionato avanti facciano la struttura molto clara e solida delle cappellini. Questo garantisce l'installazione facile di nostre cappellino in ogni struttura, con la resistenza a dei cappellini e l'excepzione di durabilità delle pezze. Le opinioni positivi dei visitatori per il nostro stand permettono di dire che il nostro cappellino è stato molto bene accettato. Qualcuno interessato a sapere più sulle cappellini è benvenuto a visitare il nostro sito o a guardare i prossimi video sulle cappellini che saranno prossimi. Grazie mille!